È un vero e proprio caffè letterario quello che Enaip Veneto ha realizzato a Feltre all'interno del campus Tina Merlin di Borgo Ruga, grazie ad un'iniziativa di fundraising che ha visto il coinvolgimento di una quindicina di aziende e associazioni del territorio e di alcuni privati cittadini. È stato possibile dare vita ad un progetto certamente originale. Quest'idea nasce per creare un posto dove sviluppare delle attività culturali e ludiche per i nostri studenti e anche studenti delle scuole superiori di primo e secondo grado. Sarà possibile realizzare dei progetti specifici, ad esempio una mostra fotografica piuttosto che la presentazione di un libro. Lo spazio, nato dalla rigenerazione di una sala di smessa della scuola Enaip di Feltre, sarà gestito nelle attività di bar e ristorazione direttamente dai giovani studenti dei percorsi formativi dell'Enaip. I nostri studenti saranno il fulcro del caffè literario perché potranno realizzare sia la parte della sala che della cucina e anche gli altri indirizzi, il benessere e partecipare comunque alle attività che potranno essere anche ad esempio un corso di aggiornamento oppure delle attività con delle letture e delle presentazioni di progetti. All'interno del caffè anche un angolo di bookboxing per lo scambio e la lettura di libri e la possibilità di ospitare corsi, mostre fotografiche, di quadri e di altre opere d'arte e appuntamenti culturali di vario tipo. Un'offerta che intende aprirsi e rivolgersi ad un pubblico eterogeneo non solo nel territorio feltrino. Per le associazioni, per le scuole, per i privati e anche aziende. Insomma invito ovviamente le persone a rivolgersi presso la nostra scuola per richiedere l'opportunità di accedere a questo caffè letterario. Non sarà aperto ovviamente tutti i giorni, sarà accesso alle persone che avranno prenotato il progetto interessato attraverso il nostro sito. Potrete trovare un link dove vedrete la programmazione nelle prossime settimane di questo caffè letterario.